Il territorio Ebleo avrà tre ospedali classificati come Spoc, Ragusa, Vittoria e Modica. Lo assicura il parlamentare Ebleo Nino Minardo, a margine dell'incontro breve ma proficuo avuto sabato scorsa a Modica con il sottosegretario alla salute Davide Faraone. Nell'ambito del turri Ebleo di quest'ultimo ha cominciato a Raguse che ha toccato pure Scicli. Al momento nessun ospedale del territorio Ebleo è Spoc, ma che quelli di Ragusa, Vittoria e Modica lo diventeranno. In contemporanea, allorquando il piano sanitario regionale, opportunamente rimodulato rispetto alla prima stesura che l'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi aveva approvato per far quadrare cifre e numere, declassando il maggiore di Modica ad ospedale di base, sarà sottoposto all'attenzione del Ministero della Salute. Il cammino è già tracciato e si tratta solo di ultimare i necessari passaggi burocratici per concretizzare tutto nel breve volgere di qualche settimana. Tutto ciò si tradurrà in servizi sanitari migliori e più organizzati in favore dell'utenza, servizi che saranno man mano potenziati, ma mai tagliati in ciascuno dei tre ospedali Spocchi Blei. Infine si procederà con l'attuazione della nuova pianta organica, con almeno 200 nuove assunzioni tra personale medico, infermieristico ed amministrativo. Saranno adesso i tempi burocratici a scandire questi passaggi, ma il percorso finale si annuncia dunque sgombero da ostacoli e da imprevisti lungo la Serragusa-Palermo-Roma, per risollevare e migliorare la sanità iblea dopo i tagli imposti dalla Spending Review.